Michele Catarinella, cognome difficilissimo, sempre qui a Sanfele, alle cascate di Sanfele, ci presenta un servizio molto particolare che si chiama Sanfele Experience. Lo vediamo davanti al suo mezzo, adesso lui ci racconterà di che cosa si tratta. Buonasera a tutti, la nostra associazione offre un tour all'interno dei punti inesplorati del nord della Lucania, soprattutto qui a Sanfele, per far scoprire la natura incontaminata e quindi offriamo questo tour dove facciamo assaggiare anche dei prodotti tipici del posto, facciamo fare delle escursioni, del trekking, un po' di tutto per scoprire questi posti. Ma facciamo vedere dove li portate e come li portate? Voi li portate a bordo di questo mezzo che si chiama? WM90, un ex mezzo militare, all'interno del mezzo ci sono dei sedili per il trasporto di soldati. Guardate qua, allora naturalmente non avrete l'aria condizionata, ma vivrete sicuramente quello che è il viaggio all'interno di questo splendido posto che è le cascate di Sanfele, a bordo di un mezzo militare che è tra l'altro comodo, vi devo dire la verità, adesso poi salirò a bordo e vi farò vedere anche come si sta a bordo. Comunque il mezzo è comodo e considerate che lui con questo mezzo vi porta ovunque, dove naturalmente nessun altro mezzo potrebbe andare per via degli aspetti orografici di quello che è il territorio, giusto? Esatto. Quanto dura mediamente un giro a bordo? Il giro può durare anche quattro ore, quindi un bel giro alla scoperta di tutti i posti e quindi possiamo anche fare una giornata intera, dipende dalla richiesta che c'è, offriamo di tutto. Allora, ascolta, mi vuoi dire la pagina Facebook o il sito dove vi possiamo vedere? Sì, sono l'experience su Facebook e anche su Instagram. Perfetto, hai detto tutto, hai visto? Non sapevi com'è sbrigartola, invece sei stato fantastico. Saluto a tutti quelli che ti stanno guardando in questo momento e vi raccomando venite a trovare mi raccomando Sanferi Experience, tutte le cascate di Sanferi.